Davide si è concluso da circa un mese il vostro campionato avete ottenuto una bella salvezza anche quest'anno però già si parla di futuro intanto puoi rassicurare i tuoi tifosi tu rimarrai all'SC Vita Vecchia? Sì sì sicuramente rimango anche il prossimo anno mi sono trovato benissimo ma come già ho detto altre volte è casa mia quindi conosco tutti ambo il gruppo e sono sicuro insomma di rimanere. Lo scorso anno invece sei andato prima all'Orvieto poi sei ritornato alla S ci spieghi questa situazione questa scelta prima di andare lì e poi ritornare? Sì allora guarda sai che chi fa sport principalmente diciamo vive di stimoli quindi magari l'idea di rifare una categoria magari un po' più impegnativa l'idea magari di rimetterti in gioco mi aveva spinto a prendere questa decisione anche perché poi al Civita Vecchia c'erano alcune cose che ancora non erano ben chiare c'era un po' un'aria così insomma e poi però strada facendo insomma ho avuto un po' di problemi ancora vieto e sono ritornato a Civita Vecchia insomma. Sei soddisfatto però del campionato che avete giocato? Come no sicuramente sì abbiamo fatto delle partite bellissime penso la partita fuori casa a fondi o in casa con la Folgarella o anche il derby in casa che io non c'ero insomma che l'ho vista da spettatore il gruppo è cresciuto tanto abbiamo penso che abbiamo anche fatto partite dove abbiamo espresso un buon calcio a 5 Avete tanti giovani l'hai detto tu per il prossimo anno quindi qual è l'obiettivo? Gli obiettivi dipendono sempre e poi anche dal campionato dalle rose che le altre squadre fanno secondo me la squadra di quest'anno può puntare a fare insomma una salvezza tranquilla anche qualcosina di più io poi non mi sbilancio mai però strada facendo insomma penso si può fare qualcosa di più Invece è un tuo obiettivo personale per la prossima stagione? Guarda obiettivo personale nei sport di squadra è sempre legato poi al risultato finale perché magari fai un bel campionato fai 25-30 gol però magari poi retrocedi quindi ti rimane sempre quell'amaro in bocca quindi l'obiettivo è sempre legato a quello della squadra sicuramente cercare di fare meglio di quest'anno quindi cercare magari di puntare a qualcosina di più anche se poi insomma dai play out ai play off ce n'è un bel pezzo insomma